non hai più batteria però no ma sai i motori e la batteria e il regolatore che la temperatura lana è 150 gradi però metà soddisfazione i due besti che vengono più tutta la narica esatta la lana bene proprio un po' di disegno questo qua ti viene disti a tenere la manetta non fai pensai al mare contro le onde guardate che salti che fa questo guardate pazza qua sotto costa eh non c'è più batteria dai vicino eh c'è un volontario